Previsioni per lunedì 9 settembre. San Giacinto. Possibili rovesci sparsi sulle zone settentrionali della regione, nottetempo, dalla mattinata cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti. Venti deboli da ovest-sud-ovest con rinforzi su arcipelago e costa settentrionale, mari mossi o molto mossi, temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi. Ed è tutto dal Meteo. A domani.